Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per ripristino incidente, 3 km di coda tra Firenze, Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori, 3 km di coda in direzione Mare tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, 1 km di coda sulla carreggiata opposta in direzione Firenze e in direzione Firenze per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Sul raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata in direzione Bettolle tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga. Sulla Statale 68 Val di Cecina, dal km 20 al km 22, restringimento di carreggiata per cantiere. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!